E' importantissimo perché siamo stati colpiti molto pesantemente, ma venire qui a Stornarella mi ha dato proprio la sensazione che tutto il paese sia disposto ad aiutarci, quindi sono contento perché ho trovato proprio una grande solidarietà e poi soprattutto sono contento perché ho ritrovato dopo un po' di mesi Ciccio Costa, Ciccio Costa è stato come quando ti marca Vierkwood, praticamente non puoi sottrarti alla marcatura, il Foggia era un Foggia fantastico, poi mi ricordo che tutte le volte che il Foggia giocava al nord Italia io cercavo sempre da andarlo a vedere, ho visto addirittura anche degli allenamenti quando è venuta a Cremona perché era spettacolare, mai visto una cosa del genere.